Musica 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 Oggi ci troviamo su destella con due belle casse una rara e una leggendaria chissà cosa troveremo buttiamoci subito nello spacchettamento ok ci facciamo un bel rombo qui centrale vediamo una leggendaria ok vediamo prima le regular ultra leggendaria che spider spawner non è male vediamo una legend con la fortuna che io non troverò manco una leggendaria ne so sicuro avete visto che ultra e press s rara rar 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 e qui i blocchi di smeraldo me li rendo e questi piccoli ve li regalo a voi quindi ragazzi ora apriamo la cesta rara che ne ho un altro che mi uscita quest'altro cesta vediamo un po' leggendaria rara ultra regular quindi regular regular ultra legend oddio 10 blocchi di diamante buonissimo vai stiamo a vendere 11.300 euro monito oddio 77.850 euro ragazzi quindi prendiamo un po' di roba nell'intercess ah ti dico che ci hanno rifato non voglio nasconderla quindi ci abbiamo allora me ne me ne può bastare tranquillamente 1 quindi che cosa daremo oggi mi chiamo voi allora prima cosa ci teniamo questo ok spider 15.000 i ragionari poi non so perchè diventano 15.000 ah questi tnt lo racconto nel video nella live di kendall per i 100.000 iscritti mentre li droppavo lo racconto e me li tengo queste le andiamo a mettere qui poi abbiamo visto i valetti di diamante così questa è tutta una roba da buttare poi che andiamo a fare qui regaliamo vai allora abbiamo le mele qua regaliamo gli un paio di mele così due mele op il dare al metto oh c'è ne ho due quindi vai vai mettiamo via tutto questo e quindi andiamo a prendersi lo slit regaliamo il kit saver ok portico portico vabbè vediamoci le cose che non vogliamo buttare via come per esempio questa qui e la builderà poi c'è no la builderà poi tutto questo è da tenere si dice la facciamo poi metto qui le bistecche e ok dovremmo fare give away quindi avvitiamo give away ap allo home home andiamo salutate youtube siamo pronti ciao leone da 610 ciao gabri e ora è il momento buttiamo tutte queste mele buttiamo le due opi buttiamo queste buttiamo queste buttiamo queste poi buttiamo queste e poi buttiamo tutto questo siiii poi vediamo un poco vai che cosa possiamo regalare una pala di diamante così vai sponsor world no grazie magico show no c'è no questo è questo è magico ehhh vabbè si ok ora vedremo e ora venderemo questi due spole e li venderemo quindi h a casa 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 e quindi scendiamo da qui e ragazzi questo spero che questa intro vi sia piaciuta così con il tip e lo spaccettamento e noi ci vediamo in un minigame che sceglierò io quindi cazzi eccoci qui non so certo siamo in ipixel ovviamente c'è lag perchè non lo so perchè energame si è allestato e cominciamo gol 1 a 0 vai subito così oddio che gol che sto a fa aspettiamo ai nostri compagni qui tirate bravissimi 2 a 0 vai che ci siamo tutti dai ci petto la palla resta qui a difendere dai tira un passaggio bravissimo assist ok io e la mucca abbiamo difeso benissimo ancora continua no domini attenzione è alex non è alex sembrava alex per i capelli e ragazzi stiamo stravincendo 4 a 0 oddio attenzione ooooh che hanno mancato non fate l'autocall però no così no non vi posso vedere così vai tiriamo pallonetto non va vai aspettiamo che arrivi una palla non sono riuscito a prenderla benissimo in mezzo no si si è rubato il culo in tutto questo fa niente ah non sono riuscito a inquadrare lo specchio della porta cavolo perchè era proprio una bella occasione dai alex ma perchè la continua a chiamare alex anche se non è alex sembra troppo sembra troppo è un alex con la faccia deforma perchè che è oggi nemmeno vabbè i paragoni 0 oggi oh attenzione attenzione ecco oddio palo raga era una palla in mezzo si è stato piccato da blu vai benissimo spazzata in mezzo vai 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 bravo no spazza no bravo bravo no 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 ok sto facendo autogool vai andiamo parlo bravo aspettiamo che loro spazzino perchè ho fatto la figura oddio ok oh gol vai partita aperta col mio gol ricordo nooo bravi vai andate però no 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 attenzione che siamo no loro sono inferiore la numerica troppo mezzo no non la voglio mettere in mezzo attenzione con la palla che potrebbe andare in porta no ma che dico c'è alex portiere quando vuoi segnare con alex titolare non puoi andare a segnare oddio oh volevo cercare di metterla sul muro ci riproverò ci riproverò ci riproverò magari con un altro punto ma dai ma come vai buttala lì dove nessuno portiere mezzo 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 tira tira vai no no voglio quello che la partita si allungasse a 30 secondi vabbè comunque abbiamo vinto noi ci vediamo per la seconda partita ragazzi eccoci qui per la seconda partita c'è anche per la prima volta nel canale mio fratello Ender Games non si riesce a sentire molto bene perchè il microfono vicino alla bocca ce l'ho io ovviamente che dovete sentire la mia voce fare il mitano con fondo vai comunque non so manco come si parla fare il mitano attenzione vai andiamo buttamocela avanti niente questo che stiamo facendo è il allenamento io non ti do il consiglio quando sta male il partito tu vuoi stare più veloce vado avanti lo so eh no non ci arrivo attenzione alla palla vai andiamo vai proviamo a segnarla ah attenzione oh mamma mia che hai sbagliato buttiamola bravissimi attenzione attenzione la palla in rete mi assist ming 201 incredibili no che cosa fa dai l'ho lisciata te l'ho lisciata apposta tira no pareggio non ci volevo tiriamo tiriamo what the fuck la palla il pallonetto attenzione che ho deviato deviato il pallone la butto la butto lì attenzione ho perso la palla ho perso la palla per un attimo buttatela vai e dentro vai che assisto vai 2 1 o o o che cosa ho fatto o mo che cosa ho fatto che cosa ho fatto raga maratona no 3 2 vai ender oddio parate no no non puoi pareggiare così 3 3 vai ender però portiere qualcuno che vada in porta vai prova ma con me qua tutte dai non è possibile cross andateci addosso alla palla tira tira no attraverso vai tirala tu eh questa è la liscia buttala sul muro è tua attenzione attenzione il gol vado in porta eh però cercate di segnare anche io almeno l'ho segnalato il gol dai eh già però ma boi vai palla buttatela vai gol si può fare dai dai ci puoi andare no provaci mettila tirate eh non fammi uscire però tira no 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 non ci sono arrivato non puoi fare la palla con di te ti passa attraverso l'uomo però provate a metterla dentro la porta vai in mezzo da eh 18 secondi andateci vai gol vai dai dai la provo a mettere in mezzo andai no ma perché fai l'autogol no non puoi fare l'autogol a sto giro gol vai nove secondi ci vanno io tiro gol siiii ho pareggiato ho pareggiato abbiamo pareggiato vai si così e fai si così si le robe nei ragazzi vai così mamma mia va bene ragazzi questo video può anche finire qui e noi ci vediamo alla prossima da creeper games un saluto ciao a tutti ciao